Internazionali tennis, BNL Roma 2011, risultati Cominciamo con l'impresa di Paolo Lorenzi, che in meno di due ore ha battuto il brasiliano Thomas Bellucci, recente semifinalista a Madrid. Nel prossimo turno il tennista italiano dovrà affrontare niente poco di meno che Rafael Nadal, numero uno del tennis mondiale. Passiamo quindi a dare un'occhiata al torneo femminile dove arriva la prima grande delusione, l'eliminazione della pennetta. Non c'è stato nulla da fare per Flavia Pennetta, che sempre per il solito e recidivo infortunio alla spalla, c'è del passo all'americana Bethany Matic Sand, con un punteggio finale di 6-4, 4-6, 6-3. Passano invece Schiavone, Opran, Di Brianti e Errani. La Schiavone ha battuto Cristina McHale, americana numero 92, mentre Alberta Brianti ha avuto la meglio sulla cinese Zendo. La Errani ha avuto la meglio nel derby italiano, che l'ha vista impegnata contro Roberta Vinci, ritiratasi per un problema alla caviglia destra. Romina Opran è invece lottato per tre duri set contro l'essone Kaia Canepi e alla fine è riuscita ad avere la meglio sull'avversaria baltica. Vince facile anche la Sharapova, impegnata nel derby russo contro Ekaterina Marakova.